Genova è della fotografia in questi giorni con un workshop di Franco Fontana, ce ne parla Giorgina Zapparoli. Lui è Franco Fontana, un grandissimo della fotografia conosciuto in tutto il mondo. Loro sono fotomatori e aspiranti fotografi che in questi giorni a Genova hanno il privilegio di seguire il suo workshop. È uno dei tantissimi eventi di Click, mettici la firma, il convegno che per tre giorni fa del capoluogo Ligure la capitale della fotografia. A organizzare l'evento negli ambienti liberti dell'ex Columbia, Giancarlo Pinto, dal 2010 docente di fotografia applicata ad architettura e fondatore presso la biblioteca universitaria del Polo della Fotografia. Ho voluto fare un convegno nazionale di fotografia chiamando a Genova dei fotografi come Franco Fontana, che sono nazionali, anzi internazionali, Francesco Cito, Pezzani, Iacometti, Onofri e la maestra di Enola Traverso. Due ogni mattina saranno intervistati dai giornalisti. Oltre agli incontri con gli autori e le conferenze su tutti i temi della fotografia, sette mostre nei palazzi storici della città, dalla commenda di Prea al Museo di Sant'Agostino a Palazzo Reale.